Ciao a tutti amici di youtube e benvenuti in questo video che riguarda l'esercizio numero 3 ci troviamo alla terza delle quattro parti che riguardano appunto questo esercizio direi di cominciare da subito l'esercizio prevedeva la creazione di due personaggi inventati due OC, uno maschile e uno femminile che appunto potessero poi essere utilizzati per tutti gli esercizi successivi quindi chi non ha potuto partecipare a questo esercizio mi raccomando comunque fatelo e inviatelo nella community ok? noi andiamo avanti partiamo con il disegno di Mirko Rongoni che ha creato i suoi due OC, eccoli faccio un ingrandimento e andiamo ad analizzare un po' il suo disegno allora il disegno del maschio mi piace molto Mirko perché hai fatto appunto questa capigliatura molto originale non si vede molto una capigliatura così quindi che parte diciamo con una frangettona totalmente orizzontale e poi sul finale invece va a fare tanti ciuffettini mi piace davvero tanto per quanto riguarda quella femminile potrebbe essere carina non la trovo particolarmente eccezionale però comunque sia io non lo so qui avrei usato un pochino di più ci sono tre ciuffi uno centrale e due laterali e poi c'è una codina dietro e gli occhi di entrambi i personaggi sono piuttosto simili quindi magari anche in quello potevi un pochino cambiare però ti ringrazio e passiamo ai disegni di Andrea 2003 allora Andrea anche tu mi hai fatto i tuoi personaggi allora il tuo personaggio femminile ha i capelli viola molto utile il fatto che tu abbia colorato anche il personaggio perché comunque è un'ulteriore caratterizzazione e hai fatto questo ciuffone totalmente verticale gigantesco che arriva fino alla fine del collo mi piace molto e da quest'altro lato invece hai fatto delle mollettine che fanno molto Tokyo Ghoul comunque mollettine che tengono su quest'altro ciuffo e permettono di vedere l'occhio un occhio molto molto largo quindi questo personaggio femminile mi piace molto andiamo a vedere il personaggio maschile il personaggio maschile invece tende ad essere piuttosto anonimo secondo me nel senso che comunque hai fatto tutti questi ciuffi che si vedono spesso insomma nei manga quindi non c'è nessuna grande particolarità anche gli occhi sono piuttosto spenti nel loro per come li hai fatti quindi magari potresti rivedere un pochettino il personaggio maschile il femminile invece è molto molto carino ti ringrazio e passiamo ai disegni di Francesco Ripamonti che mi ha creato non solo i suoi due disegni eccoli qui ma anche tutta una struttura insomma legata al personaggio quindi il nome, l'altezza, il peso, l'età, la nazionalità insomma il carattere questa è davvero una cosa molto molto ben fatta perché tutte queste informazioni poi andremo andrai tu a riportarle nei prossimi esercizi proprio per rendere unici i tuoi Yonkoma vedrai che sarà veramente veramente utile andiamo comunque ad analizzare i tuoi personaggi allora un personaggio maschile tu me l'hai fatto praticamente con dei ciuffi che sembrano quasi bagnati per come sono storti sul finale e dietro praticamente hai fatto questa coda che viene avanti quindi ci sta e ci sta come disegno andiamo a vedere il tuo personaggio femminile che fa molto Atsunemiku infatti hai fatto queste due code ai lati del personaggio molto molto grandi, molto lunghe che sul finale vanno un po' a fare questo gioco insomma una specie di avvitamento e anche questo personaggio mi piace insomma comunque ha una sua caratterizzazione una sua particolarità stai attento solo ai piedi perché come vedi questo piede è totalmente storto rispetto a come dovrebbe essere disegnato inoltre hai fatto un particolare di un gatto credo che sia un tatuaggio qui molto molto carino ti ringrazio Francesco e vediamo i disegni di il ricciolo incastrato allora vediamo i tuoi disegni tu il personaggio maschile me lo hai fatto con i ciuffi al contrario e questa è una cosa che ti appoggio perché è molto originale infatti vedete i ciuffi non vanno dall'alto verso il basso insomma vanno dal basso verso l'alto qui nella zona destra insomma del volto e poi c'è questa specie di spuntone che sembra quasi il corno di un unicorno mentre dietro praticamente i capelli assumono una una funzione piuttosto piuttosto conosciuta insomma nei vari nei vari manga per quanto riguarda gli occhi anche gli occhi sono particolari perché sono tendono ad andare verso l'alto e il volto è piuttosto paffutello però ha il mento a punta molto molto carino e anche il tuo personaggio femminile è caratterizzato a queste pallette qui sopra insomma che sono praticamente arrotolate credo da una corda e che fanno molto orecchie di topolino però sono originali sono carini anche queste ciocche davanti insomma c'è originalità e gli occhi sono diversi da quelli maschili infatti hai fatto degli occhi un po' più orizzontali che si lavora un po' più sull'orizzontale qui e il viso è molto più fino ti ringrazio e passiamo ai disegni di Alice Sorrentino mi hai creato praticamente due personaggi con delle maschere molto originali, molto particolari perché sono per certi versi simili come vedete hanno i colori invertiti però sono del tutto simili l'uno all'altra però come negli esercizi scorsi anche questi due personaggi potrebbero non trovarsi molto molto bene negli ambienti che andremo ad utilizzare per le prossime Yonkoma quindi forse dovresti creare anche gli stessi personaggi togliendo questa maschera che è molto originale però capisci da te che se facciamo un'ambientazione scolastica non è che si va a scuola con la maschera in volto capisci? quindi va bene la caratterizzazione di questi due personaggi che è anche molto molto originale però devi farmi un altro disegno con i volti veri ok? ti ringrazio e passiamo al disegno di Arianna Fisco allora anche tu mi hai creato i tuoi due personaggi con tanto di nomi andiamo ad allargare un pochino l'immagine Ryu è l'ospito del drago mentre Yuki è la neve sono praticamente credo le traduzioni delle parole non lo so dimmelo in un commento qui sotto comunque per quanto riguarda i tuoi personaggi il personaggio femminile mi piace perché ha questa ciocca a mezza luna che va a finire praticamente oltre il collo molto molto originale mentre da quest'altro lato i capelli sono più radi mentre il personaggio maschile non lo trovo particolarmente efficace perché questi capelli sono abbastanza visti insomma e quindi non c'è molta molto originalità di qua gli occhi non posso dirlo perché lei tiene gli occhi chiusi però comunque nel complesso io forse rivedrei un pochino lui è il maschietto ti ringrazio e passiamo ai disegni di Valentina Nulli allora i tuoi personaggi hanno un nome si chiamano Azmael lui e Melanie lei allora molto bello il disegno di lei mi piace che tutto il braccio destro sia caratterizzato con questo mega tatuaggio e anche parte del suo corpo ha anche un ciondolo qui sulla fronte quindi dà l'idea proprio di essere un'indiana per certi versi anche se il volto non è molto indiano però per quanto riguarda i capelli mi piace che hai fatto praticamente delle piccole M qui sulla frangetta e poi praticamente il resto invece è molto molto cotonato è stile pin up ragazza anni 60 anni 70 è molto molto bello comunque questo personaggio il personaggio maschile ha dei capelli molto molto frastagliati come come vedete e che sono legati dietro da un codino quindi ci sta ci sta comunque questo tipo di disegno inoltre i lineamenti del volto di lui sono più marcati mentre quelli di lei sono sono molto più tondi ti ringrazio e passiamo ai disegni di Antlia Antlia ti chiami così? sei maschio o femmina? scrivimi in un commento qui sotto allora i tuoi personaggi Pierre si chiama lui e lei si chiama Rebecca mi piace molto il fatto che li hai colorati con un tipo di colorazione con un filtro fotografico che tende all'azzurrino un grigio azzurrino molto molto piacevole questo disegno anche i tuoi personaggi sono davvero ben fatti mi piace molto il fatto che qui appunto la ragazza abbia questa ciocca centrale che va a dividersi completamente da quella che tende ad andare verso la sua sinistra perché nella sua destra invece fa questo mega ciuffone che cade giù e mi piace, mi piace molto anche gli occhi è veramente molto curato e anche lui ha questi capelli un po' riccioletti e invece delle ciocchettine un po' più unite insomma qui nella parte alta anche tu, il tuo personaggio maschile lo hai fatto con questi capelli lunghi legati dietro e con questa ciocca che finisce sulle spalle un bel lavoro, mi piace e passiamo ai disegni di Artube allora, vediamo un po', anche i tuoi disegni sono molto belli mi piace il fatto che comunque sei riuscito a caratterizzarli anche nel volto nel senso che trasmettono comunque serenità, allegria e questa è una cosa, una particolarità che non è da poco insomma e mi piace anche come li hai caratterizzati i capelli di lui sono veramente fatti bene con queste ciocche molto molto verticali che vanno a chiudere un po', ad arrivare finalmente quindi a chiudere tutto il volto e dietro invece tendono comunque sia ad andare verso l'alto e gli occhi di lui sono, diciamo, non sono totalmente aperti come quelli di lei che sono veramente spalancati e si vede praticamente questa pupilla gigantesca e anche lei ha questa ciocca laterale però dall'altro lato ha una mollettina e quindi la ciocca non si vede i capelli di lei sono piuttosto frastagliati però sono corti e tendono ad andare tutti verso la sua destra veramente due bei disegni, complimenti e passiamo ai disegni di Neki Chan, la stalker allora, Neki Chan, andiamo ad analizzare i tuoi disegni e finalmente qualcuno ha disegnato gli occhiali perché effettivamente è un particolare che fa la differenza però finora nessuno l'aveva utilizzato il tuo personaggio ha le orecchie quindi comunque sia ha dei richiami agli animali vediamo un po', anche i capelli sono secondo me ben caratterizzati qui hai fatto praticamente una ciocca grossa che va a chiudere, a coprire l'occhio mentre qui c'è proprio un taglionetto e riprende lateralmente come vedete c'è originalità in questo disegno anche il disegno del maschio ha questa ciocca gigantesca che va a coprire praticamente l'occhio totalmente sull'occhio destro mentre l'occhio sinistro ha questa goccia molto da Pierrot però l'occhio qui si vede molto molto stretto insomma rispetto a quello di lei davvero originali i tuoi disegni, mi piacciono, grazie e passiamo ai disegni di Merletto Idiota oh, anche tu mi hai caratterizzato con un'effettistica i tuoi disegni lei me l'hai fatta con questo cappellino molto molto simpatico molto cibi e me l'hai fatta praticamente con un pesce disossato si dice così no, praticamente solo l'osso molto molto... che fa molto gatto quindi molto molto carina la cosa anche tu mi hai fatto praticamente dei capelli lunghi leggermente mossi ecco, per quanto riguarda i capelli magari avrei usato un pochino di più però come vedete il fatto non si nota molto perché comunque l'attenzione è totalmente concentrata sul cappello, sul particolare, sull'accessorio quindi questa è una cosa che dovete tenere in considerazione perché appunto l'accessorio fa una grande differenza e il personaggio maschile invece ha questa benda molto molto grande, evidente anche le bende credo che non erano mai state inserite quindi anche questo è un particolare molto interessante sul quale ci si può giocare questo cappellone ha il cappellaio matto e ha anche una specie di farfallino qui benché sia nudo, insomma ed è particolare comunque ti ringrazio e passiamo ai disegni di Anna Paccian allora, tu mi hai inserito anche dei particolari scritti lui ha un piercing che è legato praticamente dall'orecchio e finisce al labbro inferiore mentre lei ha un tatuaggio qui sul fianco andiamo ad analizzare comunque nello specifico i tuoi personaggi allora, molto molto puliti molto semplice la tua caratterizzazione secondo me potevi fare qualcosina in più mi piace il fatto che lui abbia questi capelli molto ordinati che finiscono tutti a un lato che fa molto light di Death Note però tutto ciò va in contrasto con questo mega piercing proprio da darchettone infatti io mi sarei aspettato diciamo, rispetto a questo piercing dei capelli un po' diversi rasati da un lato un po' più eccentrici perché questi capelli effettivamente cozzano un po' con questo particolare i disegni mi piacciono molto però sono caratterizzati non molto particolari ecco, come posso dirtelo? te lo dico così quindi magari avrei osato un pochino di più ti ringrazio Anna e passiamo ai disegni di Fabio Provedi allora, tu mi hai disegnato questi due personaggi si chiamano Maru, lei e Crow, lui lui me l'ha fatto con la codina e questi ciuffi laterali che fanno molto Nihou mentre lei me l'ha fatta con questa frangettona molto molto netta che finisce ai lati in questo modo inoltre mi hai fatto un collarino con un cammeo centrale molto molto carina anche questa idea gli occhi di entrambi i personaggi sono comunque diversi perché i suoi, quelli di lei sono molto a mezzaluna mentre quelli di lui sono un po' più ricercati quindi nell'insieme i due personaggi mi piacciono ti ringrazio e arriviamo ai disegni di Tsukiko Zumen allora Tsukiko andiamo ad analizzare i tuoi disegni tu mi hai disegnato un maschietto qui in un foglio a parte la femminuccia allora cominciamo dalla femminuccia che si chiama Blue i capelli di lei mi piacciono molto perché sono nella zona interna sono piuttosto lineari mentre nella zona esterna sono frastagliati questo è un particolare che è davvero interessante ha degli occhi molto molto larghi molto belli con questo sorrisino carino e quindi sì, molto molto particolare non riesco a capire che cos'è questa cosa qui sotto all'altezza della caviglia non so se è un errore oppure boh non lo so dimmelo tu in un commento e andiamo a vedere il tuo personaggio maschile anche il personaggio maschile ha questo segnetto qui ma che cos'è? non lo so allora ti dico da subito il personaggio maschile fai attenzione perché l'hai fatto un po' nano quindi andrebbe un attimino rivisto specialmente nella parte bassa nelle gambe mentre per quanto riguarda insomma la particolarità dell'ossido originalità tu hai fatto questo mega ciuffone che finisce sulla sua destra e diciamo una specie di cicatrice in questo occhio ci sta ci sta quindi ti ringrazio e passiamo ai disegni di Mimi Mai Mai non lo so scrivi in un commento qui sotto come devo definirti allora andiamo ad analizzare i tuoi disegni allora vediamo questi occhi andrebbero forse un attimino rivisti perché sono tutte e due molto molto uguali mancano di qualche cosa per esempio non hai fatto il sopracciglio non hai fatto le ciglia per quanto riguarda il personaggio femminile ci sono dei particolari che andrebbero un attimino rivisti forse forse per quanto riguarda gli occhi la parte interna del volto andrebbe un attimino rivista perché praticamente uno la fotocopia dell'altra e anche il volto stesso come possiamo vedere è molto molto simile cambiano i capelli però anche i capelli sono piuttosto buttati lì nel senso che comunque sia questo tipo di ciocche di capigliatura non ha molta originalità anche qui tu hai fatto praticamente una cosa del genere questa frangettina piuttosto già vista insomma e poi i capelli che finiscono qui però neanche concludono nella parte bassa insomma forse dovresti impegnarti un pochino di più nel trovare qualche originalità qualche particolarità non so magari avevi poco tempo scrivimelo in un commento qui sotto però purtroppo nel disegno il poco tempo non porta frutto ti ringrazio e passiamo al disegno di Giuseppe Giardina allora Giuseppe andiamo ad analizzare i tuoi personaggi partiamo da quello femminile molto carina questa M fatta con le ciocche nella parte appunto proprio davanti insomma alla frangetta e i capelli per il resto sono abbastanza normali sono molto molto lunghi arrivano addirittura fino alle ginocchia però però insomma mi piace l'originalità di questa frangetta e il personaggio maschile forse l'avrei un pochino rivisto forse sto notando che i personaggi maschili sono un po' più difficili da disegnare non lo so perché vedo che sui personaggi femminili vi concentrate un pochino di più su quello maschile la buttate lì forse perché appunto avendo i capelli corti magari è un po' più difficile trovare una particolarità però in quel caso potete giocarvela con il viso potete giocarvela con gli occhi e chi lo sa potete anche giocarvela con i capelli perché non è detto che un personaggio maschile debba avere necessariamente i capelli corti quindi magari il personaggio maschile l'avrei un pochino analizzato un po' più a fondo ti ringrazio Giuseppe andiamo con i disegni di Marco Puma allora lui si chiama Drake lei si chiama Sophie allora andiamo ad analizzare i tuoi disegni mi piace molto anche tu hai fatto questo personaggio maschile con la frangetta ad M è una frangetta però lunghissima che arriva fino alla fine del suo petto molto bella mi piace molto questo particolare e come vedete Marco ha utilizzato il metodo dei capelli lunghi anche per lui e ci sta ci sta mi piace molto anche gli occhi sono sono molto caratterizzati e sono completamente diversi da quelli di lei che sono invece occhi più da gatto hai fatto anche le sopracciglia sia le sopracciglia e le ciglia sia superiori sia quelle inferiori i capelli di lei sono più frastagliati come vedete non so perché per certi versi mi ricorda una vipera questo personaggio femminile non so se era il tuo intento magari scrivilo in un commento qui sotto comunque hai fatto anche questa ciocca molto molto lunga e arrotolata nella parte proprio davanti e quindi davvero belli mi piacciono molto tutte e due fai solo attenzione anche tu alle proporzioni perché queste teste sono specie quella di lei troppo grandi rispetto al corpo e andiamo ad analizzare i disegni di Marco Mariano allora Marco tu mi hai fatto questi disegni a mateta e anche tu questa volta hai disegnato gli occhiali però al maschietto questo particolare fa un'enorme differenza vedete come diciamo i particolari normali semplici fanno una differenza enorme rispetto alla caratterizzazione del personaggio quindi a volte noi ci concentriamo a cercare particolari estremi tipo buchi che ne so tatuaggi sul volto cose strane però magari invece poche persone hanno pensato di fare semplicemente degli occhiali è una cosa semplicissima però che funziona tantissimo e che va a distogliere l'attenzione da cose forse un pochino più semplici come appunto questi capelli che sono molto 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 semplici molto ordinati però ci stanno rispetto appunto a questo personaggio con gli occhiali gli occhi di entrambi i personaggi li hai fatti completamente diversi anche il il volto lui ha un volto più ha un mento molto più appunti scusa molto più tondo invece lei molto più appuntito inoltre i suoi occhi appunto come ho detto sono completamente diversi e mi piace molto anche il personaggio femminile mi piace il fatto che comunque è uno stile tutto tuo continuo a seguirlo perché perché ti porterà ti porterà lontano mi piace il fatto che hai utilizzato anche in questa semplicità i capelli di lei tutti praticamente tirati indietro e legati da un da un fermaglio praticamente dietro che gli fanno praticamente questa questa ciocca lunghissima molto semplice però funziona proprio perché appunto a volte ci si concentra su cose elaborate e le cose semplici non le fa nessuno ti ringrazio marco e concludiamo con i disegni di grecian idc tu mi hai fatto una bella una bella illustrazione con entrambi i personaggi così in pose e poi mi hai fatto anche diciamo delle dei primi piani dei volti lui di profilo che si chiama Tate e lei Connie con un volto a tre quarti mi piacciono molto i tuoi personaggi come vedete sono caratterizzati anche nel suo caso guardate che belli questi capelli bianchi anche questo è un particolare non indifferente che va un po' a sopperire alla semplicità del disegno dei capelli stessi che non hanno cose molto molto particolari insomma però i capelli bianchi e anche la struttura degli occhi fatti molto a gatto sono molto belli e vanno a distogliere l'attenzione da un particolare appunto il taglio del capello che invece era piuttosto conosciuto i capelli di lui mi piacciono molto sono rasati qui sulla destra e tendono ad andare tutti verso la sinistra un taglio di capelli molto moderno molto giovane e anche gli occhi di lui sono molto molto diversi da quelli di lei sono molto più a fessura anche se lui ha questa bocca veramente molto grande e anche questo è un altro particolare non indifferente tutti e due hanno molti tatuaggi specie lui ne ha veramente tanti e quindi insomma molto molto particolari mi piace molto come le hai caratterizzati bene ragazzi siamo giunti alla fine di questa terza parte ci rimane un'ultima parte e poi anche l'esercizio numero 3 sarà archiviato ricordo a tutti che se non siete riusciti a fare questo esercizio ci sta capita può accadere comunque fate i due o si i due personaggi inventati e inseriteli nella community di google plus disegniamo insieme a marionetta matta la categoria è sempre la stessa esercizi questo perché i prossimi esercizi che faremo e guardate che sta per arrivare il prossimo esercizio non dovete aspettare chissà quanto perché d'ora in poi andremo a velocizzare di molto insomma la questi questi esercizi e ne faremo molti di più questi due o si serviranno per poter appunto fare tutti gli esercizi prossimi perché utilizzeremo proprio i vostri personaggi per la creazione delle prossime tavole grazie a tutti e ci vediamo presto un bacio a tutti i matti del mondo muah